Buonasera a tutti, amici parli ermitani, sono Stefano Chiodaroli e vi saluto qua da un nord gelido, fuori ci sono un grado sotto zero e appena levicato, diciamo che Natale sta arrivando e si sente. Mi fa piacere che sia con voi il mio caro amico regista Nicola Palmeri, col quale ho girato il corto Fisolo Fia e mi fa piacere che si faccia un cenno anche del mio film, del quale sono protagonista, te lo dico pianissimo. Palermo, capitale della cultura, che bello, complimenti per il vostro bell'evento a Coramo.